ciao a tutti ragazzi buon sabato buon sabato io sono qui a Firenze in trasferta per lavoro e voglio fare però questo breve video veramente breve breve perché poi adesso ho subito un appuntamento allora amici quindi di YouTube Facebook, LinkedIn che mi potete vedere in questo istante questo video è per te che rispondi ai miei video vedi i miei video e mi chiedi appunto come poter ottimizzare meglio il tuo tempo nelle tue presentazioni commerciali come qualificare meglio i tuoi lead come non perdere un sacco di tempo con persone che sono inadeguate al tuo business insomma sicuramente uno dei problemi principali per noi venditori è dedicare le nostre energie il nostro tempo le nostre forze la nostra buona volontà e professionalità a persone che non sono in target che non c'entrano nulla con noi con il nostro business con la nostra soluzione che non sono motivate ingaggiate qualificate appunto nel migliore dei modi quindi come puoi ottimizzare al meglio il tuo tempo le tue energie la tua buona volontà quando incontri persone nella tua attività di vendita quotidiana beh il lavoro che devi fare è prima di incontrare questa persona ok prima devi qualificare queste persone prima devi essere in grado e capace di capire chi hai di fronte e chi avrai di fronte quando dedicherai a quella persona che può essere un privato che può essere un professionista che può essere un'azienda un'azienda anche strutturata quindi un responsabile commerciante un responsabile marketing responsabile tecnico insomma chiunque poi è il tuo interlocutore aziendale devi essere in grado di capire prima se quando puoi dedicherai ancora più tempo a quella persona beh puoi ed è giusto dedicare tempo a quella persona ti piacerebbe saperlo prima evitare di andare da quella persona di spendere soldi in benzina in carburante insomma di tempo che hai di spendere il tuo tempo per andare a trovare persone che non sono in grado poi di acquistare la tua soluzione il tuo prodotto il tuo servizio vuoi essere capace e vuoi avere questa competenza di capire prima di una lunga telefonata o di una lunga video call che può essere anche di mezz'ora ma potrebbero essere 30 minuti che butti via con quel tipo di interlocutore quello che ti suggerisco ho fatto anche tra l'altro un video di recente su questo tema ma voglio riproportelo in questa live ti voglio dire in questo brevissimo video in questa brevissima diretta cosa devi dire esattamente per esempio per qualificare al meglio il tuo prospect sotto il punto di vista del budget del del dinero ok dei soldi cioè quella cosa che principalmente poi ovviamente ci sono tantissime altre situazioni altri elementi ma so diciamo l'aspetto economico è spesso quell'elemento che risulta più determinante per la maggior parte delle persone che decideranno di valutarti di capire se fare business con te e quindi di capire se acquistare la tua soluzione cosa devi dire a questa persona innanzitutto ricordati che all'inizio della tua trattativa all'inizio della tua trattativa del tuo incontro di vendita che può essere una semplice call prima di un appuntamento o comunque se vai a fare un appuntamento di persona o un video call ricordati che devi chiedere abbastanza velocemente nella telefonata che tipo di budget si è stabilito con il tuo interlocutore per potersi diciamo per poter avere per poter accedere alla tua soluzione ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi ok qui hai due possibilità o ti dà un budget e quindi ok facile ti dà un budget e capisci se puoi proseguire oppure no oppure ed è la cosa che vi fa andare più in frustrazione e vi fa fare un errore madornare madornale killer vi dice non ho un budget a disposizione non ne ho idea ecco questo spesso è una gran cazzata ma è una difesa plausibile e comprensibile del tuo interlocutore per non esporsi ok cosa succede a questo punto che dal momento in cui ti dice non ho budget non ho idea di cosa investire per questa cosa non non ho idea di quanto possa costare o quanto all'investimento per la tua soluzione perché quella è un'altra cosa a noi non ci interessa che lui o lei sappia quanto può essere il prezzo della nostra soluzione del nostro prodotto servizio a noi interessa quanto lui o lei ha in tasca nel modo concreto in modo concreto quanto ha in tasca per poter accedere alla nostra soluzione ok quindi una ciò che succede cos'è quando ti rispondono non ho budget o non so cosa non ho idea di quanto investire tu cosa fai lasci perdere lasci cadere questa situazione e continui nella tua presentazione o nella tua call e fissi un appuntamento che sarà deliterio poi perché perderai solo tempo o meglio aumenterai drasticamente la tua propria vita di perdere tempo ok quindi cosa fare cosa dire caro prospect posso capire ci sta che comunque qualche volta le persone le aziende non abbiano idea di quanto investire o non abbiano idea del budget a disposizione anche se in realtà questo è un segreto lo sanno in realtà lo sanno ok crediamogli facciamo finta di credergli e diciamo ok caro prospect capisco che a volte può capitare questa situazione tieni presente che generalmente quando collaboro con i miei clienti il mio cliente generalmente è disposto quindi a investe una cifra che va da y a z ok va da qui a qui questo range di budget va bene per te ti senti a tuo agio investire una cifra di questo tipo può andare bene anche per te a questo punto hai due risposte come ti suggerisco anche nel mio video che ho pubblicato comunque di recente o ti dice di sì e allora a questo punto puoi procedere o ti dice di no e a questo punto capisci se hai la possibilità di avere magari un'altra soluzione con un range di budget diverso oppure semplicemente lo saluti perché non rientra nel tuo cliente target nella tua clientela target e va bene così accettalo ok il nostro obiettivo il mio obiettivo come il tuo obiettivo di venditori closer professionista è quello di capire che abbiamo di fronte non è quello di tirarci giù le mutande non è quello di tirarti giù le mutande ma di capire che hai di fronte e capire se può essere il tuo cliente target se tu puoi essere utile a lui ma anche se lui ma anche è importante che tu sappia anche se lui è giusto per te questo è il mindset corretto ricordatelo questa breve video questo breve video questa breve diretta la sto facendo anche perché lunedì sera lunedì 28 ok parte edizione 2022 2023 del mio miglior programma sul processo di chiusura ed è il miglior programma considerato un miglior programma numero uno il migliore in Italia ok sul closing ma sul closing quello reale quello autorevole quello professionale non come quello che sei abituato a vedere da qualche tizio che va in giro per il mondo e ti fa vedere dal mega palazzo di Dubai le situazioni ok no è un altro concetto è un'altra filosofia quindi quello che ti suggerisco è adesso qui sotto questo qua che vedi qui sotto vedi bit.ly closer freaks ok segnatelo copiatelo poi te lo scriverò anche nei commenti cliccaci su vai a visitarti la pagina e se sei realmente interessato e vuoi investire anche dei soldini sulla tua crescita beh allora inserisci i tuoi contatti e verrai contattato perché lunedì sera lunedì questo 28 di novembre dalle 20 e 30 inizierà il miglior programma in Italia sul processo di chiusura da venditore a closer quindi se vuoi capire come ottimizzare il tuo tempo come qualificare al meglio i tuoi prospect come avere il mindset giusto per poter avere successo nella vendita oggi nella nuova era nel nuovo mondo con le nuove regole per vendere se vuoi capire comprendere come creare una forte profonda empatia perché questo è un altro problema che ti in cui ti bruci molte vendite se vuoi comprendere e questo è una cosa che pochissimi sanno fare se vuoi comprendere come fare le giuste domande per ottenere più risultati per aumentare le probabilità di chiudere più contratti nelle tue trattative incontri presentazioni di vendita quotidiane e se vuoi capire come presenterà al meglio la tua soluzione con la strategia Miranda che ti spiegherò esattamente è potentissima ha fatto fare il salto di qualità tantissimi miei studenti di questo programma da venditora closer e infine se vuoi sapere come chiedere la vendita la vendita va chiesta però nel giusto modo allora ti suggerisco veramente se non hai ancora fatto questo programma e vuoi davvero cambiare il destino della tua attività commerciale io ti darò gli strumenti giusti poi è chiaro che dipenderà da te ok dovrai metterci del tuo ma ti darò gli strumenti che hanno permesso a centinaia gli studenti che hanno partecipato a questo programma che sono passati da questo programma a diventare tra i migliori venditori del loro settore e tra i migliori performer della loro azienda e lo puoi sentire anche da loro ti invito quindi clicca sul link che poi vedrai qui nei commenti appena finisco lo scrivo subito anzi lo scrivo vediamo se riesco a scrivervelo già qua tps lo scrivo al volo ragazzi così almeno dovrebbe funzionare perché adesso sono su un sistema che mi sta mandando in streaming su molti piattaforme per cui bisogna vedere se me lo fa in automatico comunque dovreste vederlo probabilmente nei commenti ma poi ve lo inserirò io ok lasciate i vostri contatti ovviamente solo se sei determinato non mi interessa ok come dire presentare questa soluzione super esclusiva massimo 15 venditori che possono partecipare a questo programma ok non voglio ovviamente persone demotivate o persone che non hanno voglia di investire su se stessi dovrai investire su di te te lo dico già adesso ok sarà impegnativo anche come programma perché ci incontreremo per 9 settimane quindi comunque sia è un programma che ti farà fare un grande salto di qualità ma sarà impegnativo quindi se vuoi realmente cambiare le sorti della tua attività commerciale questo è il programma giusto per te ma solo se sei motivato altrimenti non è il programma giusto per te ok ora ti lascio al volo come vedi sono nella camera d'albergo ma devo subito andare per questo mio impegno che ho nella bellissima Firenze ti saluto se sei motivato ti auguro ti auguro la classe è quasi piena mancano tre posti ti auguro di partecipare a questo programma da venditore a closer perché faremo un grande salto insieme ok lascia i tuoi contatti e verrai contattato entro probabilmente domanica e domenica ok perché poi l'unica si parte quindi ti do in bocca al lupo se sei motivato sai cosa fare a presto da Fabio Cibello il coach dei venditori è unlucky come età ai